Buongiorno, illuminati, illuminati male! Allora ci sono due tipi di illuminati, i famosi illuminati di cui tutti parlano che gestiscono questo mondo, gestiscono solo quelli ai poteri forti che hanno il potere, hanno conoscenza, infatti sono illuminati e sfruttano gli altri, cioè utilizzano male, catalizzano male la loro conoscenza, il loro potere per asservire solo il proprio ego e cercare di sfruttare chi sta sotto rendendolo uno schiavo che a testa china fa tutte le cose che gli vengono dette tutte quelle cose che loro riescono a far sembrare così belle, così giuste perché trovano dei lati in onor di questo concetto, quel concetto per cui le persone si inchinano e vanno sin da piccole tutto il giorno a essere recluse in una stanza che chiamano scuola a studiare cose per la maggior parte inutili essendo schiavizzate sin da piccole. Poi le grandi crescono, vanno a fare i lavori dipendenti, non dipendenti insomma, e sono vessati continuamente da una grossa truffa alla truffa Poi ci stanno quelli illuminati bene, che sono quelle brave persone che magari sono chi ne vanno a lavorare tutto il giorno perché si assoggettano a questo sistema in nome del Dio denaro ma loro sono brave, si assoggettano solo perché l'hanno educata così e purtroppo in questo mondo chi ti fa credere sin da piccolo una certa cosa, alla fine la maggior parte di persone ci crede e fa quello che la maggior parte di persone dicono quindi a testa china queste brave persone volenterose vanno a lavorare e poi arrivano a casa la sera accendono la luce e si illuminano sono illuminati male perché pagano un sacco di soldi per questa loro illuminazione ma non è tanto quello perché poi alla fine l'illuminazione è buona a casa ci vedono perché sono illuminati male? perché sono illuminati da poco tempo con i soldi pagando soldi non solo per la luce che consumano loro ma da quello che viene detto e io non lo so se è vero però se fosse così sarebbe un'illuminazione terribile proprio della mente che questi gestori da quello che so io l'Enel vuole far pagare a questi poveri illuminati i soldi di coloro che non hanno pagato cioè metteranno in bolletta 35 euro da quello che ho sentito altri dicono no tu hai sentito? dice che caricheranno piano piano senza fatte vedere caricheranno i soldi dei morosi che non sono quelli che si vogliono bene che si amano i morosi sono quelli che non pagano che vanno a sfruttare gli altri cioè non pagano perché questo è stato illuminato male da quell'altri che sempre quelli di prima che gestiscono banche e quant'altro ma sì che quelli che sono bravi sono quelli che hanno tutto sulle loro spalle quelli che fanno impresa quelli che anche i dipendenti gli elevano metà del loro guadagno se ne va in tasse proprio quelli non possono manco evadere quelli che si arrabbattano però ci stanno sempre i pro e contro non è questo il tema sono tutti i lavoratori i lavoratori onesti devono essere onesti per me io le avrei dipendenti e non dipendenti sono brave persone che lavorano e come tali producono un frutto e questo frutto, questo prodotto va pagato a seconda del merito ma poi io leverei tutto, leverei i soldi vorrei tutto uno stato bello con la moneta tempo già ve l'ho detto allora è giusto che questo stato tuteli chi non ha niente da perdere? cioè se tu non c'hai niente ma poi aver fatto di tutto massimo massimo ti mette qualche giorno in galera e poi dopo fanno l'amnestia tutti fuori tutti fuori allegramente tanto poi c'è sta l'illuminazione giusta che non si paga non si paga perché te entra qualcuno in casa non te paga l'affitto non paga le bollette sti cazzi non si dice non volevo dire perché lo stato dice non c'è niente da perdere benissimo tranquillo tanto adesso mostri sono inventati che la pagheranno quelli che invece pagano sempre viene spalmata su tutti perché? perché? l'azienda deve riprendere il credito non è che è colpa sua che non gestisce bene le cose tutti gli altri hanno recupero crediti che poi anche lì possono fare poco perché qui non c'è niente non recupera è la colpa è di che? degli illuminati quelli che stanno proprio a monte che hanno fatto sì che nei politici sono non possono mai fare una cosa fatta bene perché questi illuminati questi qua che stanno sopra ti dicono politico ti faccio desinfanzione io la campagna elettorale poi quando quello vince ti fa pronto politico ti ricordi che ti ho dato i soldi? che sia destra sinistra centro sopra sotto no? di solito sotto eh e quelli là gli dicono eh sì effettivamente tu mi hai aiutato se non c'eri te se non c'eri te io non potevo essere così pseudo illuminato dalla tua dolce illuminazione quindi mi asservo al tuo volere e se c'era da fare questo per il bene del popolo effettivamente non lo facciamo perché? perché tu insomma te ne sono grato perché io sono diventato quello che sono quindi con questa poca luce noi come facciamo andare a votare? no? non si è poca perché i voti? sono tutti uguali cioè non è o dicono le cose ma se sempre questo Stato fa sì che non ci sia responsabilità e cioè quello che dici in campagna elettorale non si fa è uguale è un cavolo è tutto uno è un cavolo è tutto uno bisogna la colpa è dello Stato bisogna scaro Stato tu devi far pagare le cose a chi è debitore non che fa le cose così che chi lavora se non paga uno scontrino viene messo in galera per tutta la vita perché c'ha qualche cosa se no gli prendi la casa che si è fatto con i suoi soldi e invece chi non c'è niente può fare quello che gli pare se ne va di casa in casa rovinando le case non pagando bollette e non bollette tanto apre con un altro gestore e glielo danno no se tu hai fatto una cosa del genere tu a vita sei bollato finché non paghi non potrai avere niente e allora se è veramente così se qualche gestore farà pagare le porcherie di quell'altro ai bravi cittadini voi levatevi non asservite più a questo sistema fatevi pannelli solari sistemi eolici fate qualche cosa e non gli date più niente se devono imparare autogestitevi autogestitevi non dico sovraità individuale perché è pure quella ma non so poi è fattibile perché magari prendi un aereo non te fanno più salire perché non c'hai più il passaposto non so come funziona guarda ci stanno i siti andatevi a vedere io non sono esperto ma ci vuole responsabilità i politici abbiamo ci vuole responsabilità perché se questi dicono quello che gli pare è bene poi non fanno allora è tutta una fantasia ve lo ricordate quello che col cavallo aveva detto tante cose belle tanti anni fa no e poi ci stanno i corsi e i ricorsi non è che i ricorsi sono quelli ti faccio ricorso ti metto in galera perché non hai rispettato quello che dicevi ci stanno i ricorsi storici che purtroppo questi tornano la gente ha poca memoria tornano e dicono le cose come gli pare adesso questo qua che non c'ha più il cavallo è vero che non c'ha più il cavallo il cavaliere non c'ha più il cavallo io l'ho visto è andata in una trasmissione ha detto delle cose le più giuste del mondo la flat non si dice non lo posso dire se no si capisce chi è una tassa per cui non si pagano si pagano poche tassi pensa che bello tutti comincerebbero a uscire fuori perché questa Italia è illuminata male è illuminata in nero e il nero non fa poca luce perché ma non è la colpa dell'Italia la colpa è del governo che ti chiede il 70% delle tasse ma altro che ladri i ladri i ladri quando tu vedi entrare in casa un ladro dici caspita sono fortunato non c'è un funzionario dello Stato che te entra in casa che te rovina perché tu chieszo di lavoratore se sempre con la cosa con la paura che te entra in casa qualcuno dice in casa nel tuo posto di lavoro dice ma qua ci manca dove ci manca la porta per terra non c'è la tondità della pulizia che te sono la cazzata ci manca questo piccolo documento che a testa questa cazzata che ti sei inventata tu e che non serve a niente e tu c'è sempre il terrore vai nel lato diciamo oh figo che te lo volevo regalare io questa cosa te fa meno male il lato anche se sei in regola che perdi il 40% del tuo cacchio di tempo per fare i documenti ci sarà sempre un documentino nel cavolo che qualcuno si è inventato per rovinarti la vita e per far testare col magone che chissà che ho fatto di mare non ho fatto niente io sono una brava persona illuminata bene siete voi che siete fuori di testa allora questo Stato che te fa illuminare il nero perché la gente per sopravvivere te fa il nero non è colpa loro lo dicono pure i politici allora dovrebbe dire non mi sono un po' arrabbiato non mi arrabbio tanto ma questo caso ci vuole allora lo Stato ma non lo Stato noi cittadini dobbiamo dire non ci andiamo a votare o meglio ci andiamo però poi se voi che parlate così bene bene perché siete bravi a parlare ma proprio bravi e ci promettete quelle cose dovete scriverle quelle cose proprio un bel programma no? noi solo i manifesti proprio scritto poche righe fate poche cose quelle cose se non le fate se non le fate ma c'è una rivoluzione totale te veniamo a prendere ce le vuole responsabilità te veniamo a prendere te ne vai a lavori forzati così come quelli che non pagano le bollette se ne vanno a lavori forzati e te restituiscono non quanto dovuto il doppio il doppio allora tu politico che prometti non fai non è che te ne vai a fare cos'è che era andato a fare questo era andato a aiutare i po' i cose gli ammalati cos'era i lavori sociali i servizi sociali capito a fronte non diciamo chi è che poi si capisce a fronte dei milioni di euro che si sono solati ma io ci vado volentieri ai servizi sociali ci andavo alla Caritas bello bello io ci vado quello è un piacere allora tutti solano questi milioni di euro vanno a fare la cosa dovuta che ci dovrebbero andare tutti a aiutare le persone no tu hai fatto così intanto ridai i soldi l'hai fatto così tu te visto che dovevi che promettere tanta cosa e tanto benessere di tanto così verrai defraudato perché ci vuole responsabilità e questo è il mio risponso se non c'è responsabilità siamo fottuti quindi siccome c'era una che conosco ha telefonato ha detto oh signore gestore dell'elettricità questa cosa non mi è dovuta non pago e quelli gli hanno risposto e che te devo dire c'hai pure il tuo diritto hai fatto un contratto con noi non prevede il contratto che tu debba pagare per quell'altro che non pagano ma questa è una cosa proprio di diritto naturale quindi guai se pagate guai se pagate defalcate quanto dovuto quanto non dovuto defalcate quanto non dovuto va bene fate girare sto video non dite chi era questo ma benvenga vada al potere faccia tutto quello che ha fatto che ha promesso allora benvenga perché noi perdoniamo questi che sparano le cose e non le hanno fatte le perdoniamo fino a oggi da oggi non si perdona più niente vai al potere hai detto tutte cose belle oh ce le vale tasse è una cosa fatto giusto no ce le vale tasse quanto giusto uno lo deve pagare tutti pagherebbero il 15% dei tasse perché fai più fatica a fare tutto un casino per far nero allora si benvenga però se non lo fai so a fare tutto un casino che Grazie per la visione!